Ed ecco ragazzi che ci troviamo sotto al mio pezzo Questo è il mio pezzo che ho fatto oggi 1 giugno superficie 2 Guardate Eccolo E questo è il pezzo di un mostro dei graffiti Mr. Wenny One C'ho la tag sul cappello ragazzi guardate E niente ragazzi Vi ho fatto queste mini clip che ve le monterò E niente Vario al comando di questo fantastico evento Vario al comando Fandermen Fandermen para il comando Fandermen 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 Fandermen